Un cordiale saluto dalla redazione di Flores Multimedia in studio Marco Gargini. In A1, 7 km di coda per il ripristino di un incidente tra Valdarno e Firenze Sud in direzione Bologna. In A12, illuminazione spenta in galleria tra Colle Salvetti e la barriera di Rosignano Marittimo in entrambe le direzioni. Su raccordo a Siena-Firenze, code a tratti tra San Casciano Sud e Firenze in pruneta in entrambe le direzioni. Per le statali, sull'Aurelia, rallentamenti per Frana in entrambe le direzioni tra Quercianella e l'ingresso del Maroccone. Tratto chiuso in entrambe le direzioni per allagamenti tra Livorno Sud e Stagno, tra i km 307 e 313. Tratto chiuso per allagamenti anche tra l'allacciamento con la Firpillì e Stagno, nel centro abitato di Stagno, tra i km 319 e 565, 320 e 250. Muoversi in Toscana Info, servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!